È un primato a livello europeo relativo alle vite salvate, ben 106 dal 1999, quello raggiunto nei 18 anni dell'associazione Progetto Vita. Per accrescere la cultura della defibrillazione precoce, l'associazione ha organizzato una tre giorni intensa e all'insegna della salute. È la festa del cuore 2017 in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno sul pubblico passeggio. Sarà possibile partecipare, ad ingresso libero, a numerose iniziative. Nella giornata di venerdì è previsto lo screening cardiologico gratuito, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16. Sabato 17 è il Defibrillation Day, nel quale sarà possibile scoprire gli stand di sanitari, forze dell'ordine e volontari provenienti da tutta Italia, mentre dalle 16 è in programma la camminata del cuore. L'evento si concluderà domenica 18 con la biciclettata del cuore, in programma dalle 18. Tutte le sere, dalle 19, nel cortile del Palazzetto dello Sport di Via Alberici, la festa si animerà grazie al ballo liscio e agli stand gastronomici.